Musica Mercoledì 27 gennaio 2021, benvenuti ad una nuova edizione del TG Web di Cittadiariano, Antonio Guarini per voi in studio quest'oggi. Cominciamo l'edizione odierna con la politica. Governo, Conte si è dimesso. Dopo tanta attesa è arrivata la comunicazione, il Presidente del Consiglio ha presentato ieri le proprie dimissioni al Capo dello Stato. Il commento per lo stesso Conte rilasciato tramite lungo post su Facebook rivela la volontà di restabilire un possibile terzo mandato che dia stabilità al Paese. Questo l'auspicio nelle sue parole. Serve un'alleanza in grado di attuare le decisioni che premono per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale alle riforme istituzionali e costituzionali. Difesa grande, ieri la conferenza stampa da Rianirpino. Si è tenuta ieri la conferenza stampa al Museo Civico della Ceramica di Rianirpino per discutere sul tema difesa grande. Presente il dirigente di autorizzazione e rifiuti della Regione Campania e il direttore generale dell'ARPAC per incontrare la stampa. Circa tre anni di lavori per la gestione post-morte, ma i quali seguirà la fase del monitoraggio. Un progetto ambientale innovativo per la copertura finale e una convenzione per il materiale vegetale di utilizzo. Il sindaco Franza ha così commentato, dopo 13 anni dalla chiusura di difesa grande, possiamo finalmente mettere la parola fine. Attualità, Covid-19 e la situazione in Campania. Sono 28 i nuovi positivi rilevati nella giornata di ieri in provincia di Avellino, riguardanti i 7 comuni irpini. Sono 976 i positivi registrati in Campania nelle ultime 24 ore. 786 i sintomatici, 41 sintomatici, 791 i pazienti dichiarati guariti e 25 i deceduti. Covid-19, lo screening sulla popolazione aranese a 10 mesi dalla zona rossa. Secondo giorno di follow-up sui pazienti risultati positivi al Covid-19 durante lo screening sierologico dello scorso maggio. L'obiettivo, come spiegato dalla manager Maria Morgante, è valutare la durata della memoria immunitaria nei soggetti che hanno contratto il virus. Per offrire una grande opportunità alla ricerca in vista della fase cruciale nella lotta per debellare il Covid. Per questa ragione si è rinnovata la collaborazione tra l'ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l'Azienda Ospedaliera dei Colli e il Comune di Ariane Erpino, nell'ambito della ricerca scientifica sul Covid-19. Per chi ha risultato positivo allo screening del maggio scorso, è possibile sottoporsi all'esame fino alle 20 di questa sera presso il Palazzetto dello Sporto di Rione Cardito ad Ariane Erpino. A causa delle attuali condizioni meteo particolarmente avverse, delle previste gelate persistenti anche a quote basse fino al mattino di oggi, che potranno rendere difficoltose e pericolose la circolazione pedonale e veicolare, per il 27 gennaio, quindi per la giornata di oggi, sono sospese le attività didattiche in presenza della scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Domenico Carrara, ricerche senza sosta, si pensa ad un incidente. Continuano senza sosta le ricerche di Domenico Carrara, il 33enne grottese uscito di casa domenica 24 gennaio per andare a fare una passeggiata e che non ha fatto più ritorno a casa. Secondo le testimonianze raccolte, il giovane di origine irpina, nella giornata di domenica, aveva deciso di andare nel bosco per una passeggiata. Alcune persone lo avrebbero visto più in alto, tanto che le ricerche si stanno svolgendo a 360 gradi, sia in luoghi dove ora non c'è neve, sia in quota, dove il rischio valanghe è marcato. Non è possibile al momento escludere che il giovane abbia avuto un incidente o sia finito addirittura sotto la neve. Sturno, violazioni urbanistiche, sequestro per circa 400 mila euro. I carabinieri della stazione forestale di Mirabelleclano hanno denunciato il titolare di un'azienda agricola di Sturno, ritenuto responsabile di esecuzione di lavoro in totale assenza di permesso di costruire autorizzazione sismica. All'esito dell'attività eseguita con le stazioni forestali di Rennerpino e Castelbaronia e personale dell'asile di Avellino, è stato accertato l'esercizio commerciale di panificazione abusivo. Deferito in Stato di Libertà la Procura della Repubblica di Avellino, per l'uomo è stato disposto anche il sequestro di mobili abusivi per un valore stimato di circa 400 mila euro e sanzioni amministrative per circa 14 mila euro. E concludiamo con lo sport Sandro Abate, settimana arianese. Settimana arianese per la Sandro Abate 5 Soccer, che in questi giorni si allena al palacardito di Ariano Irpino. La squadra di calcio a 5 vellinese ha voluto ringraziare la città del Tricolle per l'ospitalità con un sentito post apparso ieri sulla loro pagina Facebook. La Sandro Abate 5 Soccer partecipa al campionato nazionale di Serie A di calcio a 5 maschile. Questa era l'ultima edizione per l'edizione odierna del TG Web di Città di Ariano. Vi ricordo che potete seguire i nostri aggiornamenti sul sito www.cittadiariano.it, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram e sul nostro canale ufficiale YouTube. D'Antonio Guarini, grazie per l'attenzione e vi do appuntamento sin da oggi all'edizione di domani, sempre alle ore 13.